buonasera a tutti 21 giugno 14 e 30 21 giugno 2018 naturalmente 14 e 30 buon solstizio d'estate buona stagione estiva a tutti partiamo con la mia diretta facebook naturalmente vi ricordo per favore di condividere il video e la diretta pigiando sulla freccettina che trovate sotto il mio viso sotto la mia faccia in questa immagine in modo tale da allargare il gruppo degli ascoltatori di queste dirette come al solito cerco di darvi l'appuntamento per domani domani sarà probabilmente alle ore 16 dico probabilmente perché domani sono in trasferta a venezia e quindi spero di trovare in albergo una connessione wifi che mi consenta di fare la diretta quindi salvo intoppi domani alle 16 tra l'altro approfitto dell'occasione anche per dirvi che sono a venezia perché domani sera alle 17 e 30 farò un'iniziativa a mestre al palco e quindi se siete della zona di venezia mestre insomma veneto e dintorni e domani riuscite a essere a venezia con piacere vi vedrò e quindi prima di andare a fare l'iniziativa alle 17 e 30 l'idea è di fare la diretta alle ore 16 incrociamo le dita. Primissima notizia della giornata io direi Trump che fa marcia indietro ogni tanto in queste dirette mi come dire registriamo delle marce indietro rispetto a questioni spinose che non ci piacciono per niente direi che questo è il caso assoluto di una cosa che non ci era piaciuta la separazione dei bambini dai genitori sembrava anzi è stata una cosa ributtante di una violenza inaudita una manovra una speculazione politica che più bieca non si può ricordate Trump aveva utilizzato questo sistema dicendo che poiché i migranti illegali andavano detenuti non potendosi detenere i bambini i bambini dovevano essere separati dai loro genitori e questo chiaramente era soltanto un modo che Trump aveva cercato di individuare per forzare sulla minoranza democratica nel congresso al fine di ottenere il loro accordo su appunto sull'irasprimento delle norme sull'immigrazione chiaramente questa cosa è stata un boomerang è stato un boomerang perché in tutto il mondo si sono sentite le voci di questi bambini piangere una disumanità che probabilmente ricordava addirittura le separazioni delle famiglie sulla piattaforma di Auschwitz non so davvero a che cos'altro paragonarlo e pare tramite l'intercessione anche delle donne di casa Trump in ogni caso il presidente degli Stati Uniti ha dovuto fare marcia indietro io direi che bisogna celebrare questa cosa ma bisogna anche celebrare l'idea che quando c'è qualcosa che non va questo bisogna dirlo bisogna dirlo in modo netto chiaro non aver paura di sembrare minoritari in questo mondo che sembra essere impazzito nel quale pensiamo a schedature razziali appunto bambini separati dai genitori io capisco benissimo che chi ha una visione del mondo diciamo così civile perché non so come altro definirla in questo momento si senta un po' come dire intimidito da questa montante ondata razzista xenofoba fascista diciamo la verità perché questi sono i termini e allora invece si è visto in questo caso come un'ondata di indignazione planetaria abbia costretto anche Donald Trump che appunto una testa più dura non riesco a immaginarmela a dover fare marcia indietro che ci sia di lezione fare politica rivendicare il proprio impegno politico riabbracciarlo dire le cose come stanno farsi portatori delle proprie idee può essere anzi è un'arma vincente questo è un po' il senso anche di queste dirette facebook devo dire la verità io mi sono un po' appropriato di questo spazio perché ho voglia di dire delle cose che ho voglia di condividerle con voi quindi questo diciamo questo episodio ci sia di incoraggiamento per il futuro vivere con Trump presidente degli Stati Uniti diciamoci la verità è un po' un incubo io penso che un giorno potremo raccontare i nostri nipotini che eravamo vivi quando abbiamo visto Barack Obama e tutte le speranze che la presidenza Obama ha portato e ci è toccato purtroppo come una sorta di oscena legge del contrappasso vivere anche questa fase di Trump ma in questo caso umanità 1 Trump 0 quindi continuiamo così cronaca del parlamento nel frattempo vi ricordo di condividere grazie cronaca del parlamento oggi siamo stati in commissione sono finalmente partite le commissioni dopo cento e più giorni di inattività io sono in commissione esteri tra l'altro in compagnia di una compagine del pd estremamente prestigiosa con me ci sono Paolo Gentiloni Marco Minniti Dario Franceschini Lorenzo Guerini Piero Fassino c'è anche via Quartapelle che saluto e che sarà la nostra capogruppo in commissione affari esteri e lavoreremo con lei c'è anche Francesca Lamarca deputata eletta nel nord america faremo credo un ottimo lavoro staremo molto attenti alle cose che succedono staremo molto attenti a Putin a Trump insomma alla nostra collocazione internazionale che secondo me è una delle cose più delicate di questo governo giallo verde quindi staremo con tanto di occhi aperti e io non mancherò di informarvi durante queste dirette abbiamo eletto Marta Grande presidente della commissione una giovane deputata di seconda legislatura del movimento 5 stelle sono stati eletti devo dire molti presidenti giovanissimi questo può essere una buona notizia io spero che la gioventù non diciamo freni la gioventù in esperienza non freni il loro lavoro sono ruoli estremamente delicati vi faccio un esempio la commissione affari costituzionali la prima commissione che è considerata da sempre la commissione regina quella dove vanno tutti i grandi leader dove si discutono i temi appunto legati al ministero degli interni alle riforme costituzionali e quindi tutto ciò a che fare con la sicurezza dello stato con con le istituzioni in quanto tali il presidente della prima commissione è un deputato che si chiama giuseppe brescia giovanissimo anche lui una laurea in scienza dell'educazione non credo che abbia nessun diciamo nessuna competenza di tipo giuridico istituzionale né di altre esperienze lavorative e quindi diciamo questo scranno spesso occupato da personaggi estremamente prestigiosi è occupato in questo caso da una persona così giovane così inesperta che dire in bocca al lupo a lui a tutta la commissione anche al paese speriamo che faccia bene tra l'altro nella scorsa legislatura a brescia era in commissione cultura quindi non ha neanche conoscenza a seguito dell'esperienza precedente del lavoro di commissione affari costituzionali però che devo dirvi che dio c'è la mandi buona e la mandi buona anche al presidente brescia tanti auguri anche a lui auguri a marta grande appunto sarà la mia presidente vi terremo aggiornati a proposito di esteri siamo naturalmente sempre in discussione con l'europa sapete che c'è stata una bozza che è arrivata sul tavolo di conte di una sorta di decisione europea su sulle migrazioni considerata molto svantaggiosa per l'italia perché sostanzialmente sembra essere un po frutto di quelle spinte che la cancelliera merkel sta ottenere sta diciamo trovando nel suo paese per evitare che migranti arrivino in particolare dall'italia verso la germania quindi un inasprimento delle frontiere interne alla quale l'italia risponde diciamo per le rime anche qui minacciando una chiusura delle frontiere interne per evitare quindi respingimenti da parte tedesco francese verso l'italia ma con il risultato di ottenere due di creare due problemi secondo me uno è che evidentemente in questo modo si mette a rischio la stessa idea di schengen cioè l'idea che i cittadini europei possano muoversi liberamente nel territorio dell'unione una grande conquista di civiltà una grande conquista di progresso che secondo me aveva trasformato moltissimo anche le vite di molti di noi soprattutto dei giovani abituati a muoversi in europa come fossero nella propria casa e invece stiamo tornando rapidamente indietro e io penso che questo sarà un problema quando e semmai schengen dovesse finire io penso che ce ne accorgeremo e che l'opinione pubblica non amerà questa novità che sicuramente sarà un passo indietro anche in termini di pace di conoscenza reciproca di collaborazione di amicizia tra tra i popoli in una regione come l'europa dove sapete ci siamo scannati per secoli invece finalmente grazie anche all'unione europea le innovazioni come il trattato di schengen come come appunto la zona di libero movimento di schengen abbiamo la pace da più di 70 anni la prima e la seconda è un progressivo isolamento politico perché è chiaro che noi italiani stiamo tenendo bordone stiamo come dire avvicinandoci sempre di più ai paesi cosiddetti di visegrad cioè l'ungheria la polonia la repubblica cieca la slovacchia e naturalmente anche a paesi governati da governi simili ai nostri come l'austria o anche più di recente la slovenia che però sono i paesi che sempre sono stati contrari alla ricollocazione di quote di migranti arrivati in italia verso i loro verso i loro territori e voglio ricordare in particolare la situazione dell'ungheria perché guardate in ungheria c'è questo signor orban che diciamo il grande capo che vuole superare il concetto della democrazia liberale e dice che vuole introdurre nel suo paese una democrazia illiberale che a me sembra poi un modo diciamo un gioco di parole per dire uno stato totalitario inutile che ci che ci giriamo intorno questo signore piace molto a salvini ottiene consenso popolare perché l'economia ungherese va bene in realtà l'economia ungherese va bene perché noi italiani anche diamo un sacco di soldi all'ungheria e infatti noi da sempre abbiamo propugnato l'idea di dire chi non adempia i suoi doveri di europeo come prendere i migranti non può come dire affermare o non può godere dei suoi diritti di essere europeo come i trasferimenti monetari ma cosa ha fatto orban proprio in queste ore ha fatto approvare dal suo parlamento che controlla a larga maggioranza per di più c'è anche un partito che sta ancora alla sua destra come se ci fosse spazio alla destra di orban hanno previsto una riforma costituzionale che prevede che l'accogliente il divieto di accogliere i migranti stia addirittura in costituzione hanno fatto una norma contro che diciamo prevede come reato l'accoglienza o anche soltanto la propaganda si può parlare di propaganda nei confronti dei migranti cioè a favore dei migranti o comunque come dire la spiegazione la diffusione di informazioni circa il fenomeno chiamata norma anti soros soros è questo ebreo ungherese miliardario che si è molto dato da fare diciamo così per la creazione di una società aperta inclusiva e che è il nemico numero uno di orban che gli rimprovera anche diciamo in modo non velato il fatto di essere ebreo insomma ci sono toni in ungheria che ricordano gli anni trenta del secolo scorso in germania diciamoci diciamoci pure la verità e addirittura questa norma che orban ha fatto approvare dice che il dovere costituzionale degli ungheresi è la difesa della cristianità un po come quando saldini vota diciamo giura sul vangelo e brandisce il rosario ma quello che a me dà fastidio davvero è che questa richiamo la cristianità al vangelo sia da parte di orban ma anche di salvini non ha niente a che fare con la religione cioè loro non è che loro non propugnano principi religiosi avete visto che qualche giorno fa il cardinale ravasi ha citato il vangelo secondo matteo ed è stato linciato diciamo sul web dagli haters dagli odiatori che popolano il web per aver citato il vangelo quindi orban salvini questa gente utilizza il vangelo non come diciamo emblema religioso il crocifisso ma come emblema identitario cioè al di là che voi crediate o no quello che ci accomuna quello che accomuna anche me che sono laico ateo agnostico insomma che non credo ma il vangelo il vangelo e il crocifisso servono a indicare che io non sono musulmano cioè che non sono etnicamente parte di una comunità diversa e quindi che io sia cattolico cristiano oppure no rientro dentro al concetto di cristianità dentro il vangelo di salvini non per la mia fede ma per il mio dna non so come dire è comunque una forma di discriminazione basata sull'etnia e che la cosa che rende più disgustoso il tutto è che questa forma di discriminazione basata sull'etnia viene coperta con un manto religioso che non ha e questo lo dobbiamo dire molto chiaramente questa è semplicemente un'ulteriore operazione di discriminazione razziale basata sul fatto diciamo sulla nostra cultura cattolica o sulla nostra storia cattolico cristiana non certamente sulla nostra fede ed è una cosa secondo me veramente orribile questa è la gente con la quale salvini si accompagna e vuole che noi ci accompagniamo isolandoci in europa e soprattutto mettendoci insieme a quei paesi che oltre a queste politiche orribili non ci hanno mai dato una mano nel frattempo sempre per questioni europee voglio segnalare che il ministro savona continua a perdere posizioni diciamo doveva essere responsabile è responsabile degli affari europei e quindi avrebbe come sandro gozzi nella scorso nello scorso governo avrebbe dovuto far parte del consiglio affari generali dove tra le altre cose si discuterà il bilancio 2021 2027 si parla di mille miliardi di fondi europei quindi una cosa molto importante ma pare che a savona dopo che gli erano stati già tolti i fondi per la coesione quindi quella delega era passata a barbara lezzi ministro per il sud ministra per il sud anche la partecipazione agli affari generali è stata tolta a savona e data a enzo moavero milanesi ministro degli esteri quindi è un segnale magari sottile un po interno che però vi voglio segnalare perché ci dice che la figura di savona è evidentemente non è particolarmente in auge questa cosa messa insieme alle dichiarazioni di tria di cui parlavamo ieri tria che dice attenzione non spendiamo in deficit attenzione teniamo il debito sotto controllo attenzione la fiducia dei mercati attenzione facciamo politiche di continuità con il passato dimostra che c'è una faglia dentro il governo che probabilmente vedremo diventare sempre più larga con l'andare del tempo soprattutto quando in settembre dovremo cominciare a vedere quali sono le linee di politica economica del governo in preparazione della legge di bilancio io vorrei parlarvi ancora di molte cose ma mi sono accorto che il tempo stringe e non voglio fare di queste dirette delle cose troppo lunghe magari ve ne parlerò ancora avrei voluto parlarvi della chiusura dei negozi la domenica propugnata da di maio oggi carlo bonomi di assolombarda dice il ministro dello sviluppo economico pare proporre sempre un ritorno indietro no questo questa questa idea dell'economia un po da mulino bianco nel senso della pre elettrificazione con i rider facciamo le assunzioni a tempo indeterminato come fossero impiegati di banca nel secolo scorso chiudiamo i negozi e come dimenticandoci che la società è molto cambiata insomma alcune cose tra l'altro avevamo cominciato a lavorarci nella scorsa legislatura quindi parleremo prossimamente di questo parleremo dell'ennesimo condono proposto da salvini insomma moltissima carne al fuoco ma mi fermo qui vi do appuntamento come ho detto sperando che tutto vada bene per domani da venezia alle ore 16 vi ricordo per favore di condividere questa diretta o anche il video che poi resterà online sul mio blog ivanscalfarotto.it e su youtube e noi ci vediamo domani come ho detto alle ore 16 da venezia e quindi a presto buona estate ciao